buonasera a tutti grazie di essere qua questa sera avremo modo di parlare con simone credo di tante cose in particolare dei suoi 8000 lui non proietta niente quindi è tutto per voi l'occasione è questo libro edito dal corbaccio che si intitola simone moro 8000 metri di vita che vuol dire che lui intanto ha fatto 8 8000 quindi potevi anche fare il gioco numerico che vuol dire che lui è l'unico credo al mondo che ha salito per primo d'inverno 4 8000 e poi me li dici tu ma posso provarci e che lui soprattutto questa sera ci parlerà appunto credo in particolare del suo rapporto con l'alta quota simone ha cominciato lui di bergamo ha cominciato come arrampicatore poi ha fatto ovviamente l'alpinista come tutti noi e poi ha scoperto le alte quote ha fatto un sacco di spedizioni quante sono 70 direi abbastanza e in particolare è stato affascinato ma questo ce lo dire a lui dal dall'inverno che vuol dire che vuol dire trovare ovviamente succede persino da noi immaginate in himalaia una montagna completamente diversa da quella che si trova nei mesi estivi quando ormai certe montagne sono addirittura assalite assaltate da dalle spedizioni commerciali questo libro era già in parte stato uscito anni fa ma è tutto aggiornato perché intanto ci sono tutte le nuove vie nuovi tracciati ma soprattutto ci sono delle introduzioni e delle conclusioni di di simone che ho trovato molto interessanti che sono poi quello di cui parleremo in realtà il libro scorre proprio i 14 18 mila e quindi è anche un buon ausilio non solo per sapere quello che ha fatto lui ma per sapere quello che è stato fatto nel tempo su queste montagne che sono delle cime un po' iconiche diciamo che è un giochino perché per me è importante anche una cima di 7.780 metri però la quota di 8.000 è diventata come dire un must e oggi c'è addirittura quasi una gara insomma per chi li fa tutti ed è diventata una cosa abbastanza non dico di massa ma insomma diffusa sicuramente non era così quando lui ha cominciato ad andare in Nepal e sicuramente non è così se le cose si fanno con un certo punto di vista insomma cercando ancora l'avventura e non soltanto il primato allora una delle cose più interessanti che si ricavano leggendo la sua storia ma anche la storia dell'Himalaya si dice Himalaya o Himalaya? Himalaya è che gli 8.000 invernali fino al 1980 non erano stati scalati quindi ci sono circa 30 anni diciamo dall'Annapurna primo 8.000 salito dall'uomo dai francesi nel 50 fino all'80 in cui l'Himalaya è estivo cioè non si giustamente dati i mezzi di allora date le possibilità non si pensava di poter affrontare un 8.000 d'inverno ci pensano in modo molto massiccio i polacchi correggimi se dico delle cavolate che negli anni 80 ne salgono? cominciano aprono le danze salgono l'Everest nel 1980 e poi in 8 anni ne salgono 7 uno all'anno hanno fatto solo una pausa nell'86 ma poi ne hanno sempre salito uno all'anno ecco impressionante questa cosa qua infatti la prima domanda poi sarà questa e poi c'è una stasi lunga lunga lunghissima cioè anche lì strani fenomeni della storia per 17 anni nessuno ci prova finché di fatto ne restano ancora da salire parecchi la metà 7 ne rimanevano ancora e tu cominci esatto nel in realtà io comincio nel 97 prendo subito una bella scopola perché ci provai insieme ad Anatoly Bukreyev e Dimitri Sobolev l'Annapurna tra l'altro nel 97 l'Annapurna era già salito quindi il nostro tentativo era innovativo per un semplice motivo anziché andare a tentare una delle sette che rimanevano da salire ci eravamo già messi in testa quella che ancora oggi potrebbe essere un'evoluzione delle invernali cioè ritentare una montagna che anche se è già stata salita in invernale la guardi con occhi diversi e la sali per un altro versante noi tentavamo nel 97 la parete sud dell'Annapurna che tu ben sai è una parete molto severa partiamo in tre e torno a casa da solo una valanga una cornice di ghiaccio crolla ci travolge tutti io sopravvivo per puro miracolo il mio primo libro sempre con corbazio racconterà poi di questa tragedia e lo scriveremo sei anni dopo perché non volevo non volevo lucrare su una su una tragedia perché sai un instant book ne parlava tutto il mondo poteva essere la scelta strategicamente commercialmente migliore anche perché book era diventato era un mito famoso suo malgrado anche con delle polemiche legate alla spedizione dell'everest quella che ha fatto un sacco di morti adesso non andiamo troppo nei dettagli comunque era sicuramente un grande era veramente un grande che mi ha mi ha cambiato come alpinista sono cambiato come uomo e grazie all'incontro con questo gigante con il quale ho potuto condividere solo due anni di amicizia penso di aver raccolto da lui una sorta di testimone e di volontà di aprire al mondo occidentale all'alpinismo occidentale la pagina e la storia dell'alpinismo dell'est si sapeva già qualcosa degli alpinisti russi kazaki kirghisi dell'ex unione sovietica però sia per problemi linguistici culturali e politici l'interscambio anche di notizie di cronaca pura di scalate tra l'alpinismo occidentale quello dell'est non era così frequente e io mi feci veramente carico ho detto guarda io ho avuto la fortuna di conoscere una persona così bella e di ascoltare da lui le cose che facevano e io che sono un appassionato di storia non conoscevo ho cominciato a scalare solo con alpinisti dell'est dopo il 97 e arrivo la tua domanda nel 2005 nonostante questo cazzotto fortissimo di aver perso anatoli e dimitri decido di continuare con l'esplorazione invernale e vado al sisapagma e in quell'anno lì io cercai compagni di cordata e ho tanti amici ovviamente sia in italia che in europa che gli stati uniti e tutti quando dicevo viene a salire sisapagma tutti dicevano sì sì andiamo andiamo quando andiamo partiamo dopo il 21 dicembre e addirittura alcuni mi dicevano guarda che non è la patagonia che devi partire d'inverno perché guarda che è inverno sì sì voglio andare d'inverno non nessuno accettò eccetto tre alpinisti polacchi e quindi ho riscoperto che dopo 17 anni dall'ultima invernale e ancora con 7 8 mila da salire solo i polacchi raccolsero immediatamente come mai quelli dell'est hanno questa questa visione diversa da noi secondo me è un ci sono più fattori uno era anche di quotidianità diversa dalla nostra e ti dico questo da noi tutti i nostri nonni e probabilmente anche alcuni di noi avevano in casa la cucina come unico locale riscaldato e poi tutto il resto non lo era e magari con il bagno fuori anche in casa ok e quindi loro vivevano quotidianità dove il freddo era una componente di tutto l'anno del quotidiano secondo e quindi loro grandi problemi del freddo non ne avevano poi quando parliamo di persone russe o sovietiche parliamo di gente che anche se vive nella capitale a Mosca e fa freschino d'inverno se poi abitano a Yekaterinburg, Novosibirsk in Siberia o sulle montagne del Pamir e del Tian Shan questi anche senza essere alpinisti avevano a che fare con temperature fredde che anche da noi ci sono e giustamente come dicevi te però sono una costante più prolungata nel tempo dove si fa sci da fondo anche nel centro di Mosca piuttosto che a Almata qui fare sci da fondo a Torino probabilmente lo facevano nei campi fuori ultimamente 50 anni fa ultimamente no e quindi questa è una ragione avevano un'affinità col freddo e una relazione molto più quotidiana la seconda hanno sempre vissuto una vita di costrizione ok per noi adesso non voglio entrare nei meandri strani ma essere liberi di viaggiare ed essere liberi di fare quello che vuoi è un'ovvietà e considerandolo un'ovvietà ne abbiamo perso il valore tanto è vero che ci siamo accorti per vari motivi quando questa ovvietà viene meno ci salta il tappo ok polacchi cecchi kazaki kirghisi russi beh non solo non erano vietà per loro ma erano come dei cani sempre legati che il momento che gli hanno tolto il guinzaglio e potevano anche solo viaggiare questi andavano a fare le invernali nel pamire nel tienshan e quando sponsorizzato dal sindacato la prima spedizione e dal governo polacco gli dissero se volete potete andare a scalare in imalaia loro hanno detto non c'eravamo nel periodo delle conquiste perché non potevamo permettercelo dal 50 come diceva Enrico fino al 64 in 14 anni sono stati saliti tutti i 14 8 mila quando gli hanno detto se volete potete andare hanno voluto andarci da protagonisti e hanno detto cosa possiamo fare noi e si sono inventati noi andiamo d'inverno in realtà l'alpinismo invernale esiste da quando esiste l'alpinismo cioè le invernali si sono sempre fatte però giustamente quando si parlava di farle addirittura in himalaia anche i migliori alpinisti dicevano vabbè forse è meglio lasciar stare e questi questi giganti dell'alpinismo innanzitutto sono partiti in camion da Danzica e sono andati in camion fino a Kathmandu ok perché non avevano i soldi neanche per pagarsi l'aereo e prendevano su e nascondevano magari delle bottiglie di grappa o di alcol che si facevano in casa e altre e altri prodotti e se li vendevano a lungo il percorso per riuscire arrivare a Kathmandu con i soldi pronti per pagarsi il permesso ma queste avevano una motivazione bestiale bestiale quindi la sofferenza del freddo del vento dell'isolamento per loro era un regalo per noi invece era una sofferenza una tortura ecco perché negli anni 80 che tu ben sai è l'anno dell'esplosione dell'alpinismo anche imalaismo sportivo i tempi di Boivendi e Scoffier di Profi quindi era il momento in cui tutto il mondo occidentale degli alpinisti di quell'epoca che sono stati fortissimi mi verrebbe quasi da dire irripetibili facevano di tutto e assistevano come spettatori a queste persone con le pezze al culo partivano andavano e uno in fila all'altro facevano gli 8000 e concludo dicendo dopo essere stati spettatori nel 1980 con l'Everest e cominciando poi l'anno dopo un altro un altro e un altro anche gli occidentali si sono messi a provare anche Reinhold Messner che è poi il maradona dell'alpinismo ha provato a farle invernali ha provato una volta sul Cioio niente ha provato un'altra volta sul Macalù niente e ricordo in un'intervista lui disse è un'attività inumana ok quindi se Messner che ha fatto veramente di tutto ha definito questa attività in maniera così schietta la dice lunga di quanto sia stato e sia difficile scalare gli 8000 d'inverno ecco spiegaci che cosa vuol dire affrontare un 8000 in inverno che cosa voleva dire negli anni 80 che cosa vuol dire adesso bravissimo stavo partendo proprio da quello allora negli anni 80 quando hanno fatto l'Everest in invernale alcuni adesso dei puristi dicono ma hanno usato ossigeno perché il primo 8000 è unico che poi hanno fatto in invernale i polacchi in prima assoluta e voi sapete che le prime assolute non sono scalate difficili punto e basta sono scalate storiche il primo che è andato sulla luna è Armstrong ci andremo mille volte sarà sempre Armstrong l'esploratore che ha aperto l'esplorazione e l'avventura sulla luna il primo sull'Everest è stato Hillary e Tenzing ci sono andate in 9000 persone ma sempre Hillary e Tenzing anzi mi verrebbe a dire loro hanno fatto l'Everest le ultime 200 persone della scorsa stagione probabilmente non hanno neppure capito che quello che hanno fatto è un'inezia rispetto a quello che hanno fatto Hillary e per 30 anni quelli dopo di loro ma a parte questo oggi ci sono previsioni meteorologiche molto affidabili c'è il materiale che è il migliore che puoi trovare il più leggero in assoluto quindi quando hai previsioni meteorologiche affidabili hai il materiale il più efficiente hai la consapevolezza psicologica che quella montagna si possa salire d'inverno perché finché uno non fa una cosa rimane sempre un punto di domanda e in più e qui arriva anche il libro sai esattamente cosa ti aspetta non dico ogni metro ma sei tutto di quella via di salita ed è un po' la differenza tra aprire una via e ripetere una via ok e le difficoltà non cambiano il freddo non cambia il vento non cambia probabilmente neanche il rischio ma cambia psicologicamente tutto il livello di tensione e di conoscenza di ciò che andrai a fare o anche preventivamente di come magari potersi togliere dai guai perché oggi ci sono vie diverse sai di dove salgono dove scendono oggi ci sono gli elicotteri insomma è cambiato tanto il motivo per cui io ho scelto di andare esattamente d'inverno è perché giustamente come diceva Enrico gli 8000 di oggi sono di gran lunga cambiati non tanto fisicamente la quota è sempre quella anzi aumenta di pochi millimetri ogni anno perché la catena malayana è una catena giovane e la 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 spinta tettonica tra il continente indiano e quello asiatico continua infatti i terremoti recenti sono fratture che avvengono proprio per questa spinta ma a parte da un punto di vista geologico sia a livello di antropizzazione quindi c'è molta più gente a livello turistico a livello conoscitivo oggi gli 8000 sono diventati una proposta turistica avventurosa guidata io la definisco così perché non voglio né sminuirla perché comunque c'è tanta gente che non sa i rischi che corri o se ne accorge quando è troppo tardi ma diversamente dalla stessa via della stessa stagione di vent'anni fa oggi non si può più parlare di esplorazione si può parlare di un'avventura personale che è sacra ok non sono uno che vuole dettare le regole se uno deve essere lì non deve essere lì può usare ossigeno usare ossigeno importante che si abbia la consapevolezza che si sta facendo tutt'altro l'inverno è forse rimasto l'unico momento in cui non c'è nessuno attorno è vero che c'è le previsioni meteorologiche è vero che c'è il piumino norface il più leggero la tenda più leggera ma a parte queste facilitazioni di base che sono stessi materiali che puoi usare in un invernale sulle alpi non c'è in giro nessuno nessuno che ha battuto la traccia per te non c'è neppure la popolazione locale all'ultimo villaggio perché scendono tutti e quindi per me rimaneva un po l'unica forma di provare ad affrontare quei giganti come potessero essere affrontati 10 20 cent'anni prima e ritornano avere un grande fascino quelle montagne l'alpinismo ritorna ad essere esplorativo perché vi è capitato non so di stare un mese due mesi seduti in una tenda due mesi vuol dire vi concedo due persone a sinistra due persone a destra state lì un mese e uscite solo per fare la pipì e qualcosa ti salta il tappo ok e capisci quanto poteva essere difficile per quella gente che magari non aveva neppure gli scarponi che avevo io non aveva neppure la giacca a vento che avevo io non sapeva che stava arrivando magari una finestra di bel tempo e quindi che si manteneva pronta per fare un tentativo ecco l'ho fatta lunga ma non sono uno che ha perso il senso storico delle cose e anche la percezione di quanto comunque l'alpinismo esplorativo di oggi scema sempre di più sugli 8000 ok l'appeal l'attrazione che oggi hanno gli 8000 per gli esploratori è decisamente molto più limitata rispetto a quella di una volta a meno che tu non vai nel periodo monsonico come fece Messner sulla sua solitaria all'Everest da nord fatta nel 1980 più ripetuta e sono passati 43 anni non ci hanno nemmeno provato oppure vai a fare la via di Walter Bonatti e Mauri del 58 e lì di anni ne sono passati 65 e non ci hanno nemmeno provato questo giusto per farvi capire che con la stessa lucidità in cui dico in primavera meglio lasciar perdere gli 8000 sono uno che non solo non pensa che l'alpinismo sia morto e l'avventura sia morta passa attraverso una decisione di spogliarsi di qualcosa non è necessario spogliarsi della tecnologia è sufficientemente spogliarsi dai punti di osservazione che guardano il facile anziché guardare quello che già 70 80 90 anni fa i grandi alpinisti del passato perché quando si parla di Bonatti di Mauri di Messner non stiamo parlando dell'era però stiamo parlando di persone che sembrano far parte di un'altra epoca ormai sì dove tu hai fatto se non sbaglio d'inverno Shishapangma Makalu G2 che vuol dire Gashamun II e Nanga Parbat qual è stato il più difficile? Ti posso dire i due più difficili perché faccio fatica paragonale sono stati il Gashamun II e il Nanga Parbat diciamo che se devo proprio definirne uno forse sono obbligato a dire Nanga Parbat perché ho dovuto dedicare un anno della mia vita ho fatto una spedizione nel 2003 per conoscerlo quando apri una via con Jean Christophe Lafail sul versante di Amir su un 2000 metri in stile alpino senza ossigeno senza portatori senza corde fisse poi abbiamo incrociato la via normale dove c'erano tutte le corde fisse io non ero ancora acclimatato ok e quindi ho sono andato fino a 7400 poi sono sceso lungo le corde fisse quindi quella spedizione mi è servita per conoscere un po il Nanga Parbat la vetta però è mancata quindi una spedizione fallita che è il termine che piace ad alcuni colleghi o giornalisti quindi la via nuova c'è ma io non sono andato in cima poi nel 2012 vado a tentare Cazzanelli ha fatto uguale l'anno scorso però c'è la sua via perché ha aperto la signora via appunto i giornalisti lasciamo l'istante l'ha detto da lui che è il signor allora poi sono andato nel 2012 in invernale perché ho detto e quando sono andato nel 2012 ne mancavano due mancava il Nanga Parbat e il K2 ho detto vabbè andiamo al Nanga Parbat che lo conosco un figlio ed è 500 metri più basso ok vado nel 2012 versante di Amir non arriviamo in cima vado nel 2014 versante Rupal e non andiamo in cima e ci fermiamo quando è andata bene a 7000 metri dal versante Rupal quindi ancora 1100 metri sotto la vetta e 1100 metri è un'eternità poi nel 2016 ritorno dal versante di Amir quindi tre mesi più tre mesi più tre mesi mi riapproprio degli ultimi altri tre mesi del quarto tentativo terzo in invernale mio nel 2016 quando siamo andati nel 2016 i tentativi invernali a Nanga Parbat erano già 32 quindi erano 28 anni che i migliori alpinisti della storia provavano a salire in Nanga Parbat d'inverno inclusi i polacchi eh in tutti i modi ci avevano provato tra cui anche io avevo appena detto quindi quando arrivi a 32 tentativi è oggi l'8000 più tentato in invernale prima di essere realizzata la scalata io vado e cerco di evitare le parti più complicate nel senso dove io dovevo portare su le corde fisse e attrezzare la parete perché non volevo usare ossigeno e non volevo usare gli scierpa con me c'era Tamara Lunger che già era una novità non era mai capitato che durante una prima invernale durante il tentativo di una prima invernale ci fosse una donna c'era già stata una donna che aveva scalato un 8000 inverno il Cioiu eh una Svizzera e però era già addirittura la quarta salita di invernale che non vuol dire che è facile però era mancato un protagonista eh femminile in una prima assoluta e ci stava ci stava tutti gli effetti perché negli ultimi eh negli ultimi 30 e 40 anni sia in arrabbicata sportiva che in alpinismo sia nel mondo delle guide e così via insomma livello si è molto equiparato ci sono veramente delle delle degli alpinisti donne perché non voglio neanche fare la parola alpinista per fortuna è una parola sessuata alpinista uomo alpinista anzi è femminile femminile oggi che bisogna stare all'occhio a tutto mi è andata di culo che faccio uno sport che finisce per A e non per O ok porto Tamara con me però proprio perché era il penultimo la novità è che c'erano altre quattro spedizioni al campo base non ho qui la foto da farvi vedere però quando tu dici quattro spedizioni al campo base di qualsiasi 8000 oggi parli di almeno 40 persone in termini di alpinisti più 10 scerpa per spedizione parli di 80 100 persone tra cuoco aiuto cuoco alpinisti ma di sicuro più di 100 persone lì c'erano quattro spedizioni e la fotografia vedi otto alpinisti quindi era due 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 e una da tre quindi eravamo nove e più ci avevamo un cuoco un aiuto cuoco a spedizione non di più perché anche i pakistani non è che dicono sono scemo che vado a prendere freddo ok quindi ti mandano il minimo indispensabile quindi in realtà l'ambiente non era il classico di spedizioni confinate dietro il loro recinto perché oggi al campo base dell'Everest se venite tante delle spedizioni hanno fisicamente una corda che delimita il campo base e hanno i faretti che vanno a pannelli solari così sono environmental friendly sei quelli che metti in giardino ce li ho anch'io a casa no che ogni 50 metri così alla sera si illumina e vedi veramente il recinto questo è il livello lì invece eravamo uno attaccato all'altro perché quando fa freddo vai volentieri dalla tua tenda a quella magari tenda mensa di un altro quindi un giorno si mangiava polacco un giorno si mangiava italiano un giorno si mangiava spagnolo e così via quella è stata probabilmente la più difficile perché ho dedicato un anno della mia vita il nanga parbat è la montagna più grande del pianeta non è la più alta ma la più grande chi di voi è stato dalla strada dalla caracom highway da cilas 1100 metri vedi il nanga parbat che 8125 vedi 7000 metri di dislivello di montagna e il monte bianco è stato calcolato che sta 40 volte nel volume del massiccio del nanga parbat 40 e quindi quando arrivi a kurmayer vedi dente del gigante vedi monte bianco di moltiplicare 40 per creare il volume compreso anche il massiccio e la vetta del nanga parbat quindi salirlo è stato tanto impegnativo è stato un lavoro di squadra non sono mai arrivato così stanco su navetta veramente perché facevamo tutti due tre passi ci fermavamo un minuto due tre passi trattato sono passe sono passettini perché sono passi da 30 40 cm e quindi tu magari non guardi non guardi avanti per non non venire così mortificato dal tuo non progresso quindi tu fai una sequenza di passi e guardi sempre davanti poi tiri sulla testa sperando di vedere che si è avvicinato tutto e non si avvicina un tubo no e quindi è un veramente un gioco psicologico e quando siamo arrivati in cima siamo arrivati tardi perché un 8000 devi arrivare in cima mezzogiorno mezzogiorno e mezzo non più tardi ok lì niente scelpa niente ossigeno niente corde fisse addirittura non c'eravamo neppure legati l'ultimo giorno perché eravamo talmente stanchi che se uno cadeva non hai la prontezza di riflessi per fermarti ok quindi siamo guardati in faccia mi ha detto ognuno deve fare il suo quando siamo arrivati in cima che erano le due e mezza sai che hai due ore di chiaro no e poi poi viene buio e lì io e noi pensavamo che una volta girati i tacchi e scesi saremmo scesi come si scende sempre un 8000 stanco ma molto velocemente non fai più 3 4 passi ne fai neanche 10 ne fai 30 40 per volta ok o ti siedi ti lasci scivolare e lì capito subito che eravamo in trappola che sarebbe arrivata la notte e passare una notte un bivacco così alto così stanco così poco acclimatato perché avevo dormito solo a 5008 prima non più alto e quindi ho detto qua e lì la rinuncia di itamara a 70 metri dalla cima perché non riusciva più a fare più di un passo e lei ha capito me l'ha detto ce l'ha detto lucidamente io ho visto che se avessi continuato sarei morta probabilmente anche arrivare e si è girata e scivolata si è salvata miracolosamente arrivata alla tendina e acceso la sua pila frontale noi quando abbiamo scollinato è arrivato buio pesto che ci siamo sentiti veramente nei guai questa lucina che ha illuminato il giallo della tendina per noi è stata la salvezza perché sapevamo dove andare non c'erano le tracce perché il vento è una storia dove la decisione di rinuncia di una donna ha salvato la sua pelle ma anche la vostra lei si arrabbia quando lo dico perché dice che non è vero perché comunque noi saremmo arrivati io ti posso dire che forse saremmo arrivati ma per prove ed errori e probabilmente la mattina dopo e avremo bivaccato fuori quindi quella è stata forse la più difficile è una bella storia perché comunque nel momento esplorativo della montagna più tentata più desiderata d'inverno la più complicata per uno inizioni di alpinismo d'alta quota tu hai avuto vicende anche di incidenti sia a te sia ad altri e hai avuto anche e hai effettuato un salvataggio che è diventato famoso perché di fatto mi sembra sull'ozze hai tirato via una persona dai guai che sarebbe morta in circostanze piuttosto drammatiche no adesso se vuoi raccontarcelo benissimo ma poi volevo arrivare invece la tua seconda vita cioè di soccorritore infatti guarda il titolo 8000 metri di vita perché qui dentro ho cercato di descrivere la vita che vive di luce propria degli 8000 e di quelli che mi hanno preceduto e che mi hanno aperto la strada mi hanno aperto un mondo che poi mi ha permesso di di viverlo a tempo pieno ma in questa vita e ti ringrazio per queste domande c'è stato anche dei momenti di vita extra alpinistici dove ho imparato tanto e ho conosciuto tanto sia di me che del mondo alpinistico sia nel sia quando ero protagonista delle mie dei mie successi quando ero protagonista dei miei successi o come in questo caso protagonista di una decisione che non era una decisione alpinistica ma che passava attraverso quello che io chiamo il senso civico cioè quando tu ricevi una richiesta d'aiuto da parte di un'altra persona che ovviamente non conoscevo non avevo neanche visto in faccia che non sapevo dove era cosa stava facendo ma arriva questa richiesta da un suo compagno che lo vede cadere dopo che questo ragazzo perché aveva 19 anni aveva salito con ossigeno con gli scerpa il lozze che è la quarta montagna più alta della terra nella discesa stanco come come ho appena descritto ero io stanco al langa parvat a me è andata bene e lui magari questa stanchezza basta un passo più ravvicinato e col rampone ti dai una ramponata ai pantaloni ti inciampi e cadi e quando cadi su queste pareti poi non ti fermi più non riesci a fare quella manovra di piantare la picosa tutte cose che ti insegnano che sai fare e bravo ecco insomma è come quando sei travolto da una valanga e dicono che devi nuotare io sono stato travolto da un po di valanghe mi sono salvato ma non perché ero un delfino ok perché non era il mio momento ok se devo dirla tutta questo non significa che non devi provarci mi ricordo che sgambettavo e facevo qualcosa ma intanto mi tirava sotto poi ho smesso di farlo ho cominciato e sono finito sopra quindi a parte questo arriva questa richiesta d'aiuto io sono 8 mila metri quel giorno ero partito eravamo io e denis rubco anche lì non avevamo scerpa e non avevamo ossigeno per scelta non te lo ordina il dottore e proprio perché si fa fatica invece che stare tante notti sulla montagna decidiamo di fare tappe doppie in modo da esporre il corpo umano ha un deperimento organico inferiore perché stai meno ore alle quote di volo di un jambo dove non c'è ossigeno e il corpo soffre soffre tanto e deperisci ok c'è un quarto dell'ossigeno rispetto a quello che respiri qui stasera perdi 4 litri di acqua al giorno solo con la ventilazione perché è un'aria secchissima e più devi integrarne con altri 2 o 3 litri lì l'acqua non c'è è vero che c'è la neve se qualcuno di voi ha provato a ricavare 6 litri d'acqua dalla neve deve avere veramente la bombola del gas quella che c'è in casa ok quello che lì non passa l'ape car che ti cambia la bombola quando è finita la bocca c'è la tua bombolettina e se bevi un litro è già tanto quindi sono tutti siamo sotto alimentati e sotto idratati indipendentemente che usi ossigeno e scerpa quindi una situazione non confortevole quindi quel giorno lì noi andiamo da 6.400 a 8.000 metri montiamo la nostra tendina c'era poca neve in quel punto con la piccozza mentre la tendina entro nella tendina e io ero stanco io non sono rambo denis era stanco perché quando fai una tappa da 6.300 e arrivi a 8.000 hai fatto 1700 metri portandoti tutto poco ossigeno quindi appena entro nella tenda sento uno che grida ok all'inizio speri sempre che siano le imprecazioni di qualcuno che gli sia rovesciato il padellino nella tenda ok non la tua di un'altra poi invece capiamo che si stava chiedendo aiuto e quindi a far breve la storia arriva questo alpinista polacco darek zaluski arriva da sotto tra l'altro cioè non arriva dall'alto arriva da sotto e dice help 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 e siccome anche lui faceva due o tre passi si fermava due o tre passi si fermava gli ho detto ora che arriva la mia tenda magari la richiesta di aiuto è già passata un'ora facciamo gesti stai lì gridami cosa c'è e lui ci fa capire il mio compagno è caduto io sono andato è caduto fuori dalla via dalla mentre scendeva dalla vetta quindi se questa è la montagna noi eravamo qui sotto lui cade rotola va fuori fuori traiettoria rispetto alla via normale il suo compagno lo raggiunge poi scende fa un giro sotto delle barriere di rocce risale alla tenda quindi tra me e l'infortunato tra noi e l'infortunato c'era una barriera di rocce che ne impedeva la vista e questo è il motivo per cui questo polacco non arrivava direttamente ma ha dovuto fare il giro e quindi cosa fai bisogno d'aiuto ha detto ma è morto no però insomma ci ha fatto capire che non avrebbe resistito molto e quindi quel momento lì cosa fai ti rimetti gli scarponi ti rivesti anche un po di adrenalina e poi mi guardo in giro e vedo che l'unico che si rimette gli scarponi si mette i vestiti era il mio compagno denis rubico noi ci guardiamo gli altri che c'erano parecchie altre tendine perché stiamo parlando del 2001 quindi le spedizioni commerciali erano già ben cominciate nel 96 dopo la tragedia di bucrev sono letteralmente esplose e io l'ho sentito in alcuni nella tenda dicevano we miss the summit we miss the summit perdiamo la cima perdiamo la cima è chiaro che fai uno sforzo che ti prosciuga delle tue energie e quindi ho capito che gli stronzi c'erano anche 8 mila metri no e quindi io chiudo la tendina dico denis mi sa che siamo solo io e te io non so dove andarlo a cercare tu stai qua con il walkie talkie ok io faccio il giro da sotto e vado a vedere dov'è poi quando lo trovo ti chiamo e ti dico se devi venire da sopra o devi venire da sotto a darmi una mano ok e così succede io prendo scendo attraverso purtroppo era già tardi erano già le 5 di sera pian pianino arriva a buio io guardo su non vedo un tubo stiamo parlando di una montagna gigantesca eh agli 8 mila metri e poi non è piatta è tanto ripida i 2 mila metri di parete sotto niente di eroico ma non puoi scivolare se scivoli sei fottuto quindi tecnicamente non era difficile come fa essere sulla nord dell'isca ok stai facendo però non sei non stai facendo il giro dell'orto e quindi devi stare all'occhio poi sei stanco sei 8 mila metri e faccio il soccorso senza l'ossigeno perché non avevo le bombole poi vedo un puntino lontano a me sembrava una roccia allora guardo guardo detto vabbè vado fino alla roccia e poi torno indietro magari quella si è provato alzare scivolato passi e passi e passi e mentre vado verso la roccia sento il pendio sotto di me fa classico che parte la valanga quindi mi avvicino alle rocce per non rischiare vado su e man mano mi avvicino a questo puntino vedo che in realtà aveva un colore troppo strano perso una roccia più mio vicino vedo la giacca rossa e arrivo finalmente da lui e lui era lì così con gli occhi sbarrati secondo me stava aspettando tanto è vero che quando lo guardo lì mi guarda e non diceva niente non so penserà che sia un angelo brutto ma allora c'è stata un po' una conversazione ciao come ti chiami lì vengo a sapere che si chiama tom e poi a quel momento lì io chiamo denis e denis non risponde non risponde non risponde non risponde e lì io mi incazzo come una bestia in realtà poi scoprirò che non mi ha risposto perché lui è partito è andato a soccorrere un'altra alpinista la anna cervinska che è famosa perché ha fatto prima assoluta con banda rucchevici gas in brun 3 purtroppo è mancata un anno fa e lui era andato a soccorrere lei quindi anche lui da solo però lungo le corde fisse lei non riusciva più a scendere gli ultimi 100 metri neanche in corda doppia quindi io lì ho detto vedi scendiamo e lui mi dice yes but there is a problem c'è un problema e volevo dirgli cazzo un altro there is a problem cosa I lost one grandpa ho perso un rampone allora non era un problemino da poco cioè la mia idea era di tirarlo su un po' perché gli ho detto hai rotto qualcosa no e quindi io gli ho detto se non si è rotto nulla e sai lo sorreggio un po' pian piano e mi dice I lost the grandpa ho perso un rampone se sei sulla nord dell'isca mi hai perso un rampone e sei nel guano e allora gli dico no don't worry I have the solution non preoccuparti c'ho la soluzione ovviamente mentre glielo dicevo secondo voi io avevo la soluzione no però non puoi dirgli ah sei una merda capisci perché lo uccidi e quindi don't worry I have the solution mentre dicevo una roba del genere tanto mi preparavo gli mettevo posto la giacca e pensavo cioè che cazzo faccio e lì mi sono inventato che io l'ho veramente tirato su gli ho detto tu appoggia il tuo piede sul mio scarpone come mettere come quando vuoi schiacciare i piedi lo metti su ok dall'altra aveva ancora il rampone e quindi io lo sorreggevo sotto la spalla e facevo un passo gli facevo un passo e poi io spostavo il mio piede quindi lui poggiava sempre su uno scarpone dove sotto c'erano i ramponi i miei e sembravamo due due claudicanti e così pian pianino abbiamo cominciato a muoversi e nel tornare alle rocce sento di nuovo che stava partendo tutto e quindi decido anziché scendere e arrivare alla mia tenda di salire ho salito quasi 200 metri di dislivello mi siamo arrivati 8 e 2 poi abbiamo traversato sopra queste barriere notte fonda e lì non posso nascondere che il fatto che avevo già salito in lozze due volte mi ha un po' aiutato sapevo che seguendo queste queste barriere di rocce che chiamano the turtle la tartaruga arrivi fino a un certo punto incroci il canale infatti a un certo punto arrivo ormai notte fonda e trovo la corda fissa della via io scendo e quando sono arrivato a 20 metri dalla tenda vedo che delle pile frontali che mi vengono incontro erano tre persone uno con una telecamera ok e gli altri due mi fanno ti aiutiamo noi ma veramente come da qui all'entrata esagero gli do una buono da qui a dove iniziano le scale ok quindi io ero talmente stanco che non riesci neanche insultarli quindi gli ho dato tom questo qui lo prendono in carico io mi trascino la mia tenda entro nella tenda e vedo denis tutto bagnato tutto sudato io ero entrato già per incazzarmi e capisco subito e lui mi dice guarda che io sono uscito ho fatto questo e quest'altro mi dice picco la palla sulla mamma è data bene questo qua si è salvato sì ma l'happy end è che io veramente arrivo mi tolgo il rampone mi butto giù più morto che vivo e dopo un minuto due minuti sento mi aprono la zip della tenda e mi hanno buttato dentro tom come dire questa è roba tua e quindi io gli ho dovuto dare il mio sacco a pelo ho dormito 8000 metri senza sacco a pelo che fa freschino l'ho massaggiato tutta notte e il giorno dopo nella notte ho chiamato degli scerpa che sono venuti su con ossigeno io ho provato a fare un timido tentativo di provare ad andare in cima all'nozze ma ho fatto il giro della tenda ero morto e sono sceso e quindi questo salvataggio ha salvato tom moore la montagna è ancora là quel progetto che avevo in testa è ancora lì da fare e chiudendolo in battuta io speravo di aver salvato un lord inglese io mi feci prestare una bombola di ossigeno da una di queste spedizioni che non era venuta con me aiutarmi me l'hanno data glielo data a fine spedizione mi è toccato pagarla a me perché non aveva neanche i soldi quindi non era un lord inglese però insomma sono contento che ti ha ringraziato sì 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 beh finiamo parlando di elicotteri sì che è la tua nuova passione tu hai ho detto che hai cominciato a volare tardi si dice molto tardi perché di solito cominciano giovani giovanissimi dopodiché hai fatto un sacco di voli sia sulle alpi che in himalai ecco la cosa più interessante almeno io ne so un po' perché ho parlato con uno dei tuoi colleghi però allora poi tu ce lo spieghi meglio il problema è il peso sì quindi loro volano magri senza niente in tasca buttano giù tutto quello che si può presto questo per salire il più possibile esattamente e siete riusciti ad arrivare a 7 mila metri anche più alto in realtà mentre parlo io ho ancora la mia licenza sospesa in nepal e domani mattina sonam va a parlare con il general director per riuscire a avere la mia licenza restituita perché ho fatto un soccorso proprio parto dalla fine io oggi ho la mia licenza nepalesi sospesa perché a fine maggio sono andato a salvare la pelle di un indiano tra l'altro un uno del un ufficiale dell'esercito indiano ho ricevuto anche la lettera di modi quindi il primo ministro indiano che si congratulava e di tutti capi spedizione della sua spedizione e dall'altro canto a katmandu che mi hanno preso la licenza perché sono andato e sono atterrato a campo 3 dell'everest è la prima volta che un elicottero riesce a atterrare lì non tanto per la quota ma perché è una parete veramente ripida la parete ovest dell'oz è quasi come la nord dell'isca ma e atterrare con un elicottero è stato è stato è stato abbastanza impegnativo avete posato io ero da solo ho tirato via hai poggiato tutti i pattini e ho carico perché quel giorno lì io ero l'unico elicottero che era sopra le nubi perché il giorno prima facevo altri altre missioni di soccorso e dico subito io quando dico di soccorso sono persone che si devono pagare l'elicottero molte delle quali sono occidentali e hanno l'assicurazione o hanno la disponibilità economica per farlo ma io in ogni soccorso che faccio pagato da costoro cerco sempre di infilarci dentro il trasporto del materiale per il per il monastero piuttosto che prendere il bambino che si è spaccato una gamba o l'anziano che deve andare in ospedale a Kathmandu sì perché altrimenti no perché loro non hanno i denari per per pagarselo ok altra ovvietà da noi green arriva cinque minuti 118 gratis e la la devi pagarti tutto e costa un fottio di soldi quindi io sono andato sono atterrato e ho salvato questo indiano perché quel giorno lì io essendo sopra le nubi gli altri erano tutti sotto le nubi perché ero rimasto fuori a dormire il giorno prima quindi avevo parcheggiato l'elicottero tiro fuori il mio saccopelo e dormivo ma hanno chiamato mi fa riesce a far qualcosa c'è uno che aspetta un soccorso a 7003 è ormai unconscious è incosciente neanche così lontano dalla storia che ci hai raccontato prima no 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 e quindi gli ho detto guardate io però non ho qui la corda ok la long line mi fa bene allora fa niente no se vuoi posso provare a fare qualcosa e mi fa cosa vuoi fare e lasciami provare e in realtà io avevo già pensato in alcuni voli precedenti e secondo me si può atterrare a campo 3 e allora sono arrivato lì con l'elicottero e lì c'era vedo questa persona sdraiata per terra quasi in coma ormai e vedo tre scerpa e io riesco a mettermi una posizione dove riuscivo a stare in hovering cioè volo stazionario fermo per aria però lì sei già vabbè a voi lo dico ero 7400 metri agli altri ho dovuto dire 7000 ok ero 7400 metri ero lì fermo e non è che puoi mollare le mani e dirgli cosa devono fare e non avevamo comunicazione e lì sono stati bravissimi gli scerpa perché probabilmente io ho parlato con gli occhi gli facevo così e lì è pieno di tendine e hanno capito di smontare una tendina dove c'era dentro uno quindi hanno detto esci hanno smontato la tendina mi conoscevano gli scerpa quindi sanno che sono uno che magari su quelle robe lì non è proprio un brocco quindi ha smontato la tendina sono riuscito ad arrivare lì e più aggiustamente c'erano raffiche di vento quindi mi sbatteva da una parte all'altra ma riesco a metterlo lì me lo mettono dentro non riescono a chiudere la porta e vado via con la porta aperta ok cercavo andare via inclinato perché non voglio perdere fuori non voglio mica perdere fuori l'indiano sono andato via tutto storto ok finché sono andato a 6.800 dove c'era piano e poi l'ho tirato un po più dentro e ho chiuso la porta e l'ho portato a casa ecco questo mi piace perché ha un'accezione ancora esplorativa lì il volo nel senso che passi attraverso decisioni seppur molto diverse molto simili a quelli che prendi anche in alta quota quando decidi di passare da un lato non passare l'altro rinunciare andare avanti perché altri soccorsi ho anche preso decisioni no è troppo ok quindi lì se cade un elicottero non è solo che scassi l'elicottero e ti ammazzi te ma è un bene preziosissimo in Nepal un elicottero ok per tutta una serie di motivi e quindi molto spesso ti devi trovare di fronte a queste decisioni anche per il cambiamento del tempo e questa cosa che tra l'altro è l'ultimissima parte del libro scritto di questa mia attività mi entusiasma tanto quanto scalare gli 8000 io sono appena tornato da una spedizione tratto da una montagna pressoché inviolate e sconosciuta che è un po il futuro dell'alpinismo e che cerco di aiutare perché se oggi ho gli occhi puntati ancora addosso dai media o dagli editori o dalla gente come voi che viene ancora ascoltare me ecco io cerco di dare una mano a quelli che sono già alla generazione dopo di me e che devono crearsi la loro strada a fargli capire che sugli 8000 forse oggi non è così facile trovare l'avventura l'esplorazione se non con queste torture di andare d'inverno o nei monsoni ma ci sono veramente tante montagne di 6-7000 metri che costano molto meno che sono molto più difficili tecnicamente e molte queste montagne non hanno neppure un nome e che quindi provo anch'io adesso ad aiutare il punto di osservazione anche giornalistico a uscire da questo numero un po incantato seppur affascinante degli 8000 metri è vero essere là senza ossigeno non è come essere a 7000 senza ossigeno a 7000 mangi dormi e ti riposi la notte a 8000 metri non mangi non ti riposi non c'è ossigeno quindi gli 8000 ti uccidono i 7000 no però 8000 è più un'escursione è più una camminata è più un alpinismo molto classico in termini di difficoltà sui 7000 che ci sono in giro devi essere veramente un alpinista forte io ci voglio tornare perché sono partito da lì perché come diceva enrico io vengo dalla rampicata sportiva io ho un momento importante proprio qua perché la prima gara della storia sulla parete dei militi ma c'era che tu certo che c'era nell 85 mio papà ha dovuto firmare la liberatoria perché avevo 16 anni ok non mi ricorda sì c'ero 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 nella tendopoli sotto dove conosci Mellano e Cassara ma hai fatto la gara ho fatto la gara e c'era la categoria 16 20 anni dove uno di questi Stefan Glovas vinse la prima gara di sempre io fui il primo degli italiani nella categoria 16 20 anni c'era Stazio Nardi non era venuto quell'anno lì c'era Gulli c'era Moffa e quindi io ho cominciato come arrampicatore finisco a fare l'alpinista alta quota ma quella quell'imprinti mi è servito tantissimo un sacco di volte tecnicamente tecnicamente è sta è un come si dice è un margine che ti permette di essere tranquillo quindi e concludo il mondo degli elicotteri non è nato con un'accezione vipara prendo l'elicottero perché non c'è più voglia di camminare voglio fare il figo tutto è nato probabilmente inconsciamente dopo la tragedia del 97 con Bucharest perché io lì venne salvato mi sono salvato da solo fino al campo base ma poi se non veniva questo elicottero che mi sono dovuto affittare pagare non mi sarei salvato e inconsciamente lì è partita l'idea di restituire questa questa grande fortuna e dopo l'invernale al Macalù del 2009 avevo già 42 anni quindi sei vecchissimo per iniziare una carriera da pilota ho detto o adesso o mai più perché sono fuori in tempo limite allora lì è cominciato tutto e adesso sono già 13 anni che faccio una stagione di spedizioni in Himalaya e una stagione di pilota pressoché gratuito perché secondo te arriverete 8.000 metri in elicottero guarda io ci sarei già arrivato c'è un problema adesso ed è un problema ci sono due problemi uno è più il più importante è assicurativo gli elicotteri che stiamo usando sono certificati per andare a 23.000 piedi 23.000 piedi sono 7.010 metri adesso hai capito perché ho dovuto dichiarare che ero stato a 7.000 metri ok perché sotto e sopra i 7.000 metri l'assicurazione non risponde più quindi se quello ti cadeva fuori non te lo pagavano neanche dovevano dimostrare che mi era caduto fuori sopra i 7.300 metri quindi e per fortuna nei vari dati registrati ci abbiamo su un GPS tracker che però è ufficialmente not reliable for the altitude quindi non affidabile o certificato per l'altitudine ma io so che il campo 3 dell'Ozze dell'Everest è 7.400 e quindi il primo problema è assicurativo però quello puoi dire guarda io accetto che se capita qualcosa l'assicurazione non paghi la casco dell'elicottero non paghi i miei danni non paghi ma tecnicamente è fattibile cioè c'è l'aria abbastanza c'è l'aria abbastanza ci vogliono delle delle condizioni particolari un vento particolare una tecnica particolare allora se dico un pilota particolare è troppo auto celebrativo non è da me di sicuro il pilota deve essere uno che è abituato a gestire emozionalmente con una lucidità e una calma disarmante tutto quello che ti può capitare poco prima e durante l'atterraggio e quando e quando ti stacchi perché lì suona tutto che dice che sei fuori parametri il vento è forte quindi ti sballa tutto devi non devi fare la guerra con il vento perché la vince lui che deve essere uno tranquillo che se senti che una raffica ti prende ti porta via tu devi solo controllare che non ti vada a sbattere a nessuna parte cose che mi sono già capitate se sai decidere e gestire emozionalmente quelle cose posso tranquillamente dire che se potessi farlo e spero che non capiti ma sarei già andato anche già quest'anno se mi avessero chiesto se qual è il problema poi è che qualcuno si dota di false sicurezze il problema che la gente che scala oggi gli 8000 è proprio quella gente vippara che prende l'elicottero per ogni fregnata a casa loro ma dico fregnata perché vuole andare nel weekend qui se sanno questi qui cominciano ok quindi abusi qualcuno ne ho visto ma li ho tollerati perché perlomeno avevano un certo margine per ogni tanto mi arrivano delle richieste fuori di testa cioè no 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 non scendiamo chiamiamo l'elicottero chiamiamo l'elicottero e gli dicono guarda sta diventando notte non arriva più l'elicottero no no arriva arriva e poi magari dico no no allora chiama simone chiama simone poi mi chiamo perché vado a uccidermi di notte poi ecco quello che sta capitando è che c'è chi veramente realizza che è stata un'impresa e c'è chi invece dice ah allora si può ma questo succede anche sulle alpi sì cioè ne approfittano ne approfittano e poi è gratis e quindi come dicono alcuni anche io lo penso c'è una deresponsabilizzazione assoluta ed è certa e tu sai che avevano hanno messo non l'hanno ancora messo sugli 8000 quindi faccio sempre un link anche a questo in modo che non sembriamo che andiamo fuori tema però oggi avevano detto bene se c'è una palese responsabilità che uno è andato sul ghiacciaio con le scarpe da tennis e i bermuda e vado a prenderlo paga il soccorso hanno già trovato l'inghippo chiedono di essere ospedalizzati quindi anziché salire e dire mi stica che freddo dice ho un mancamento si fanno ospedalizzare quindi essendo stati ricoverati interviene non pagano la massima cosa che possono pagare 800 euro tu conta che un intervento qui da noi che viene fatto solo con elicotteri bimotori che sarebbero inutili in Himalaya per la questione di peso ma qui da noi funzionano bene stiamo parlando di elicotteri che costano 150 euro al minuto quindi un intervento di un oro di due ore di più squadre stiamo parlando di decine di migliaia di euro che paghiamo tutti noi anche per quello che va in bermuda sul ghiacciaio e questo purtroppo andrebbe cambiato però sei qui entriamo in un marasma di dire anche se ti sei fatto ospedalizzare quando rinsavisci le orecchie te le tiro e io gliele tirerei grazie 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 grazie